Benvenuti alla Rassegna Stampa di oggi, giovedì 5 novembre 2020. Siete sul canale 17 di Fano TV e questa è Occhio ai giornali, la Rassegna Stampa, un'occhiata alle pagine che abbiamo selezionato per voi dal Corriere Adriatico e dal resto del Carlino, le edizioni di Pesaro. Allora andiamo a vedere però prima il santo e poi il tempo. Oggi è San Guido Maria Conforti, il sole è sorto, anzi sì, è sorto, le 6.53, tramonterà le 16.55, adesso il tempo. Che noi e che barba anche oggi per quanto riguarda il tempo, giornata tranquilla, niente da segnalare, solo qualche nuvolosità diffusa un po' su tutta la regione, così anche per la giornata di venerdì e per la giornata di sabato e la situazione sarà così poco evolutiva anche nelle prossime giornate. Allora, da domani si comincia, da domani c'è il coprifuoco, come abbiamo detto più volte, da domani si comincia con il coprifuoco dalle 22 alle 5, le Marche sono zona gialla. Dunque una situazione ancora sotto controllo, con qualche restrizione, neanche tante, rispetto invece a chi è stato contrassegnato dal colore arancione o, peggio ancora, dal colore rosso. Allora, andiamo sui giornali, cominciamo dal resto del carino, la fotonotizia per le mascherine obbligatorie dai 6 anni in su, le maestre dicono è dura per i bambini, ma su questo ci sono molti genitori che stanno storcendo il naso. Secondo me non arriveremo al 3 di dicembre con questa situazione dei bambini nelle scuole, nelle aule per 5-6 ore con la mascherina tirata su, fin sopra il naso. Non credo che si arriverà, ma comunque adesso questa è una previsione. Intanto cominciamo, vediamo. Intanto domani, come dicevo, il coprifuoco di notte, le Marche inserite nella zona gialla, quella con meno restrizioni, ecco le regole che dovremo seguire. Poi ci sono i bonus per le biciclette, non sappiamo come potremo però recuperare i soldi. E poi Sgarbi che provoca, dice domani sarò a cena in un ristorante di carriera. E poi all'ospedale San Salvatore, terapia intensiva in aumento, i posti letto. Il lutto, l'addio a Fabio nel suo campetto, è stata disposta l'autopsia. Il Corriere Adriatico, la pagina di Pesarese Urbino, Marche, zona gialla per ora, il Presidente Acquaroli è il governo che decide. Il nuovo DPCM entrerà in vigore soltanto da domani. Con sette unità nel Pesarese si rafforzano le squadre, le famose USCA. Viaggiamo tra le 50 e 60 richieste ogni giorno. Centropagina, eccole qua. Restano due settimane per frenare, queste in base alle proiezioni. Intanto c'è un retroscena che racconta il Corriere Adriatico sul fronte politico e sanitario. Dopo il dossier Saltamartini, l'assessore regionale, vuole dai tecnici misure precise. Sale, scrive Andrea Taffi, la temperatura tra assessore e dirigenti alla sanità. Dopo il dossier chiesto a Servizio Salute e Osservatorio, Saltamartini vuole misure precise dai dirigenti come diretta conseguenza delle 12 pagine in cui i tecnici chiedevano lo stop alla mobilità provinciale interregionale. È stata persa tutta l'estate, pare abbia detto Saltamartini. Ora indichino misure precise. Quindi, come già si era capito anche dalle prime battute, dalle prime mosse del nuovo assessore regionale, insomma, Saltamartini aveva più volte lanciato frecciate, frecciatine, come si dice, agli ordini, insomma, nei confronti della sanità, delle varie sanità provinciali, Asur e quant'altro. Insomma, pare che ci sia un po' di maretta e speriamo di no, perché in queste situazioni, anche di emergenziali, è importante invece il gioco di squadra. Se poi cominciamo a litigare con i collaboratori, si rischiano di prendere o di fare cose poco sensate. Mentre, andiamo nelle pagine interne, le marche in zona gialla, giusto situazione gestibile. Dice Acquaroli, i sacrifici si fanno ma subito i ristori, i soldi per coloro che ci stanno rimettendo, soldi e anche un po' di salute. Tra le misure coprifuoco dalle 22, centri commerciali chiusi nel fine settimana, sì agli spostamenti nelle regioni dello stesso colore. Quindi ci si può spostare in altre regioni, ma solo, nel nostro caso, se sono di colore giallo, non nelle altre regioni. Le marche sono finite in zona gialla, quindi di media criticità, come tutti si aspettavano alla luce dei dati, e come lo stesso Presidente Acquaroli auspicava. Abbiamo una situazione a livello di contagio ancora gestibile, ha detto l'importante è che le decisioni vengano prese in maniera chiara. Ora, come si è arrivati a questa tinta di colore giallo? Quella che ieri era verde, poi l'hanno messa gialla, probabilmente per non dare l'impressione che il verde fosse, fate quello che vi pare, perché tanto siamo tutti tranquilli. In realtà il giallo già indica una sorta di attenzione. Allora, il primo riguarda l'indice R.T. L'R.T. è il tasso di contagiosità. Quando si arriva all'1,5, già il problema è serio, vuol dire che già siamo a livelli importanti. Le marche in questo momento sarebbero all'1,25, dunque il dato dovrebbe essere ufficializzato oggi. Il secondo, invece, parametro, che poi ci ha portato ad essere regione gialla, riguarda la percentuale di occupazione dei letti in terapia intensiva. La soglia d'allarme fissata dall'Istituto Superiore di Sanità è il 30%, le marche sono al 38%, un dato comunque che non fa stare proprio così tranquilli. Per quanto riguarda invece il Corriere, il titolo è Le Marche in zona gialla, Acquaroli non stringe, il governatore che decide. Il Corriere è un po' polemico in questi giorni, soprattutto sul modo di operare del governatore, poco decisionista, il Corriere spinge, il giornale spinge per un lockdown, una situazione un po' più decisa, un po' più ferrea, con regole un po' più stringenti. Invece, a quanto pare, insomma, il governatore rispetto a Ceriscioli è un po' meno decisionista. Ceriscioli prendeva decisioni al mattino e con i suoi collaboratori pronti via e si andava. Qui in realtà si vede, da quello che si capisce, anche leggendo il giornale, il governatore che ha ancora di fronte a sé, però, quattro anni di governo rispetto a Ceriscioli, che era ormai alla fine, e questo vuol dire, comunque anche dal punto di vista politico, comunque è un po', come dire, aspettiamo il governo, facciamo quello che fanno anche gli altri governatori, e quindi è un po' meno, appare un po' meno decisionista. Però l'importante è che sia, come si dice, sul pezzo. Intanto, il nuovo decreto di Palazzo Chigi, che cosa dice? L'abbiamo visto, rivisto, ce lo dicono in tutte le salse possibili e immaginabili, ma è importante ribadirlo. Abbiamo il coprifuoco, come dicevamo, da domani, 6 novembre, fino al 3 di dicembre, quindi fino alle 22 si può girare liberamente nelle marche, e dalle 22 però fino alle 5 si deve restare a casa. Di notte si potrà uscire solo per comprovate ragioni di salute, lavoro o necessità, e serve l'autocertificazione. Nell'autocertificazione non c'è bisogno di indicare il nominativo della persona da cui si va per motivi di privacy, quindi non c'è bisogno che scrivete vado dalla nonna perché ha chiamato e ha bisogno di assistenza. Non serve. Mentre dopo le 18 chiaramente non si può andare al bar, ma i bar sono chiusi, idem per i ristoranti, a meno che non si debba ritirare del cibo d'asporto l'opzione sfruttabile fino alle 22, vietato consumare nelle adiacenze del locale. I centri commerciali sono aperti fino a venerdì, sabato e domenica saranno chiusi tutti i negozi, all'interno, tranne chiaramente quelli che vendono le cose alimentari, le edicole e i tabacchi. I ricoveri rallentano, tamponi positivi in calo, i medici dicono decisive le prossime due settimane. L'epidemia comincia a mordere meno, da tre giorni i dati sono in miglioramento, ma preoccupano i morti. Ieri 352 vittime in tutta Italia. Intanto pronti a testare il vaccino di Oxford, a Modena si cercano 300 volontari, siamo nella fase 3 della sperimentazione, il primo appello di un centro di ricerca che appunto serve, lancia l'invito a farsi vaccinare, quindi cercano volontari. Intanto dalla cronaca di Ancona, del Corriere Adriatico, c'è questa intervista interessante al virologo di origini iesine, Massimo Clementi, che dice convinto il virus si può limitare, ma non c'è una situazione, non c'è una situazione così difficile in terapia intensiva. Se come penso queste nuove stringenti misure saranno efficaci, potremmo, dice il virologo, uscire anche da questa seconda ondata. Le prossime due settimane saranno decisive, ne è convinto. Il direttore del laboratorio di microbiologia e virologia dell'ospedale San Raffaele di Milano e il professor ordinario di virologia al San Raffaele. Nonostante la diffusione del virus continua a crescere nella nostra regione, come in gran parte del paese, Clementi si dice ottimista per il futuro. E quando Sara Ferreri, la giornalista del resto del Calino, gli chiede ma la curva dei contagi continua a salire, lui risponde beh, insomma, non direi proprio negli ultimi giorni. Sostanzialmente siamo fermi un po' sotto quota, 30 mila a livello nazionale. Come giudica le nuove misure del governo, lei che chiedeva di non chiudere le scuole, dice poteva andarci peggio con le scuole, abbiamo rischiato misure più stringenti di tornare al lockdown. Il mio giudizio, sostanzialmente, dice Clementi, è positivo. Dunque, andiamo invece adesso a vedere l'altra pagina del Corriere Adriatico. Due settimane per frenare, ma in primavera era servito un mese di lockdown totale. Vedete, anche in questo titolo il Corriere è abbastanza critico. Dopo il tutti a casa del 10 di marzo, le curve dei contagi e ricoveri erano scese solo ad aprile. Ora, a metà novembre, rischiamo di superare gli 800 ricoveri Covid-80 in rianimazione. Le curve continuano a progredire, nonostante i divieti. Nell'ultima settimana nelle Marche sono stati diagnosticati 3.816 casi. Eccolo qua, il titolo e la pagina che il Corriere Adriatico dedica ad alcuni retroscena su quello che sarebbe accaduto appunto tra il nuovo Assessore Saltamartini alla Sanità e i dirigenti sanitari appunto della Regione. Un dossier scritto tre volte dai tecnici e dagli esperti su cui la Regione nicchia. I dati critici e la richiesta a chiudere le province, ma Palazzo Raffaello frena lo schermo del Governo per mascherare le decisioni politiche del Governatore. L'Assessore chiede un approfondimento sullo studio tecnico e poi il rimpiattino con i dirigenti indichino misure precise ora, come dire. È chiaro che, come dice giustamente Andrea Taffi in questo articolo, l'unica scusante che ha in questo momento il Governatore, così come i suoi collaboratori, eccetera, è quello di non avere un background, cioè di essere arrivati comunque e quindi di non avere un'esperienza pregressa che potesse in qualche modo aiutarli in questa gestione. Quindi hanno bisogno un po', come quando si entra in un palazzo dove non si arriva per la prima volta, ancora si deve capire bene dov'è il bagno, dov'è l'ufficio, dov'è quello, dov'è quell'altro. Quindi questo, però chiaramente il tempo è prezioso, quindi non bisogna perderlo. Mascherina obbligatoria a lezione è un problema per i bambini più piccoli, questa è un'altra bella patata bollente, è un, come dire, sì, abbiamo tenuto aperto le scuole soprattutto anche per andare incontro alle famiglie che hanno i bambini piccoli che quindi diversamente sarebbero dovuti stare a casa con i nonni e quindi creare problemi, eccetera, eccetera. Quindi questa è una cosa buona l'aver tenuto sicuramente le scuole aperte, le medie soprattutto, le elementari, però adesso c'è il problema che questi bambini sono costretti a tenere queste mascherine per così tante ore e molti genitori, molte mamme, molti papà sono preoccupati per il fatto appunto che questi bambini respirano continuamente per sei ore di fila stando tra l'altro anche seduti nel banco perché ci sono delle scuole dove non si possono nemmeno alzare, si possono alzare i bambini soltanto quei pochi minuti dell'intervallo oppure per andare alla toilette. Ecco, per il resto come se fossero peggio di una caserma. Quindi, ecco, su questo io credo che nei prossimi giorni ci sarà molto da discutere. Comunque, mascherina obbligatoria a lezione è un problema per i bambini piccoli e una delle misure previste dalle nuove regole che già fanno discutere insegnanti e genitori. Pensavamo, scusate, che sarebbe bastato il distanziamento, infatti, ma chiederemo agli alunni di fare uno sforzo. Dunque, andiamo sull'altra pagina adesso. Si rafforzano, dicevamo, le USCA, queste famose squadre speciali che arrivano in casa, tutti coperti, bardati, eccetera, eccetera. Ecco, tra le 50 e le 60 richieste al giorno gestiscono queste unità speciali dei medici che passano da 4 a 7. a breve saranno operative anche, appunto, altre squadre. Tamponi per gli ospiti e il personale di Casa Leonardo dopo i due positivi. Siamo sempre nelle pagine di Pesaro. Donate il plasma iperimmune, invece, Daniele Ragnetti, da sempre colonna portante della solidarietà, già vicepresidente provinciale di Avis, chiede una fortissima azione solidale. Arma vincente per debellare la pandemia. Chi è guarito aiuti gli altri con i propri anticorpi. Mentre il Covid-10 albergatori mobilitati, opportunità anche per il nostro settore, dice il presidente degli albergatori pesaresi, Fabrizio Oliva, un'adesione convinta, due le strutture da individuare nel Pesarese. Intanto, il reparto di psichiatria per accogliere i malati in un'ottica di futura riorganizzazione e riconversione. La provocazione di Sgarbi, invece, ceno da carriera, questo è il titolo, all'annuncio in TV e poi la conferma. Domani sarò in uno dei suoi ristoranti, gli porterò il mio sostegno, poi andrò a San Martino. E c'è questa notizia, invece, che pubblica il resto del Carlino da Pesaro, il santuario di Santa Maria delle Grazie che si trova in centro, a pochi metri da Piazza del Popolo. Allora, il titolo è Frate non osserva norme Covid, niente più messa con i fedeli. stiamo parlando di un frate che, tra l'altro, è stimatissimo da tanta gente, da tanti fedeli, stiamo parlando di padre Giuseppe Tanferna, che è frate dei Servi di Maria, la chiesa dei Pesaresi. Il sacerdote non può più dire messa pubblicamente su disposizioni dell'arcivescovo Piero Coccia, che ha comunicato direttamente alla comunità dei frati la decisione, dopo che erano arrivate a lui, alcune segnalazioni un po' allarmanti di fedeli per la mancata osservanza delle norme igieniche imposte dalla pandemia. Praticamente spesso, è capito anche a me di vederlo più volte, l'ho messa lì, insomma, padre Tanferna non metteva la mascherina, non c'era niente da fare, anche quando andava in confessionale, eccetera, non la teneva. E quindi, questo chiaramente in una situazione soprattutto così di pericolo e certamente ha messo in allarme un po' i fedeli che frequentano appunto la chiesa. E dunque sono arrivate le segnalazioni al vescovo, il vescovo giustamente ha preso questa decisione, adesso padre Tanferna potrà celebrare soltanto in privato e non pubblicamente. E dice padre, padre, uno del padre Priore, mi pare il Priore, sì, questa pandemia ha cambiato anche molte nostre abitudini e in questo caso padre Giuseppe aveva qualche difficoltà e non si adeguava, così l'arcivescovo ci ha comunicato che era meglio che non dicesse più la messa in pubblico. Ora, chiusa la parentesi, le pagine del Covid, c'è un altro problema che riguarda invece gli industriali, di cui se ne parla un po' tra le righe, ma ormai credo che il problema sia conclamato il problema è che Ancona non va d'accordo con Pesaro, gli industriali di Ancona non vanno d'accordo evidentemente con tutti quelli che operano a Pesaro e quindi probabilmente Confindustria si spaccherà e andrà, Pesaro e Ancona andranno, torneranno ognuno per la sua strada. Industriali contro, Ancona dice no a Papalini il titolo del resto del Carlino per il cambio di guardia alla guida di Marche Nord imbarazzanti e telefonate sono partite verso imprenditori pesaresi spinte al tradimento tutti quanti respingono l'ipotesi di commissariamento ormai e separazione a distanza di quattro mesi non ha ancora lasciato l'incarico come prevedevano i patti lasciando posto Mauro Papalini eletto nel territorio pesarese quindi per la cronaca Claudio Schiavoni presidente di Marche Nord e anche di Confindustria regionale è scaduto dall'incarico da giugno a distanza di quattro mesi quindi da giugno non ha ancora lasciato l'incarico come prevedevano i patti lasciando il posto a Mauro Papalini eletto dalla territoriale di Pesaro una situazione che tutta la classe imprenditoriale della provincia ma voci dissonanti ci sono anche sul versante Anconetano ritengono a dir poco imbarazzante e poco edificante per chi ha sempre combattuto a parole il poltronificio politico il saluto invece a Fabio nel campo di Cristo Re lo striscione degli amici ciao puntone tanti sono i messaggi di affetto alla famiglia del 51enne le parole commosse di Ambrosini per me eri speciale lo striscione al campo della parrocchia del Cristo Re la foto invece con il campione di calcio ex giocatore del Milan Ambrosini che ha voluto postare questa foto insieme appunto a Fabio Renzi che è morto improvvisamente probabilmente a causa di un malore di un infarto e quindi questo è sabato intanto 7 dalle 14 alle 16 e 30 al campetto ci sarà un momento per lui questa è un po' la e qui c'è tutta la tutta la notizia che appunto troverete sul Corriere Adriatico e anche sul resto del Carino mentre c'è un colpo di scena chiamiamolo così da Senigallia su quella vicenda di quella donna di 35 anni ricorderete che è stata aggredita da uno sconosciuto presa a calcio a pugno e questa donna di 35 anni georgiana è finita all'ospedale in terapia intensiva ancora è ricoverata ebbene c'è stata la svolta e questa è una buona notizia è stato arrestato il suo ex compagno un connazionale questo agguato dunque ha un nome un cognome è stato arrestato l'ex la polizia è riserita all'uomo un georgiano come la donna che in passato aveva avuto una relazione con lei cercava di far perdere le tracce tra l'altro è stato arrestato sul treno sul treno Taranto Reggio Calabria è stato portato nel carcere di Matera dove rimarrà in attesa della convalida del tribunale gli agenti hanno seguito il quarantenne che è stato bloccato appunto nel Materano ed è stato portato in carcere fermato l'aggressore della 35enne Giorgiana è l'ex compagno un suo connazionale in fuga il quarantenne è stato rintracciato dalla polizia ferroviaria in Basilicata aveva ridotto la donna in fin di vita lei comunque sta meglio la pagina di Fano con le promesse non si mangia i dipendenti fanno le ferie forzate flash mob di Ristor Italia sul ponte a Lido a breve porteremo i libri contabili in tribunale intanto partite di calcetto spacciate per allenamenti Pagnetti presidente del CSI alcuni soggetti fanesi passati da amatori a professionisti e infatti ecco la qua la pagina del Carlino fermati i furbetti dello sport denuncia del CSI al prefetto Sant'Orso non è il Bronx di Fano titolo dal Corriere Adriatico ora però servono più telecamere Don Giorgio spiega il quartiere il nostro impegno contribuisce a creare socialità e c'è bisogno di chiarezza Don Giorgio Giovanelli lo vedete qui sotto nella foto piccola a Halloween c'è stato un raduno da altre zone della città intanto l'effetto malcontento tra chi abita nel quartiere di Sant'Orso a Fano rischiamo squadre punitive il vice presidente consigliare Piero Valori risiede nella zona e lancia l'allarme c'è chi ci pensa preti nostri invece padre Bracci racconta la fede sempre dalle pagine di Fano del Carlino il direttore della biblioteca diocesana ha scritto a quattro mani con Giorgio Tonelli la storia dei sacerdoti della provincia l'ultima fatica letteraria di padre Silvano Bracci 82 anni direttore della biblioteca diocesana scritta a quattro mani con Giorgio Tonelli molto noto anche lui in città per essere stato il direttore della banca di Suasa Gaspare Golfi decollato dai sicari di Cesare Borgia dopo l'irruzione a Cagli sono alcuni racconti oppure Don Giuseppe Celli morto nei forni crematori di Mauthausen e poi via il New Jersey qui siamo a Pesaro la rotonda diventa fissa l'oretto i lavori dureranno quattro mesi due i cantieri che partono in contemporanea c'è anche la nuova rotatoria di Baia Flaminia poi quell'edificio abbandonato va bonificato invece il consigliere di quartiere sempre a Pesaro del Monte chiede interventi per Pantano ungenica sul modello dei Naviglia Milano per riqualificare la zona di Levante l'assessore Vimini presenterà l'idea insieme al piano di restyling di Piazzale D'Annunzio il silenzio per chi muore in guerra il nostro cuore ai militari e medici associazioni nazionali combattenti a Montelabate e Reduci la presidente Antonella Terenzi dice manteniamo viva la memoria da Urbino noi siamo come l'angelus novus avanti e senza scordare gli errori il professor Boccia Artieri riflette su come la pandemia cambia la società università compresa dalla Valle del Cesano il dopo Pedinelli riparte da Sabatini il sindaco si prende i lavori pubblici c'era neossessora le delega la cultura pubblica istruzione ed educazione alla cittadinanza attiva lezioni dal vivo si spera di salvare le matricole il decreto del governo lo consentirebbe il magnifico rettore Calcagnini dice siamo molto più apprezzati per la didattica a distanza Palazzo Ducale inizia l'epoca di Luigi Gallo il neodirettore già al lavoro con delicatezza e attenzione rivedremo anche il percorso espositivo attenzione al multimedialità da Senigallia spuntano ordigni come funghi altre nove bombe siamo a quota 11 continua l'odissea del cantiere del Ponte 2 Giugno ieri mattina l'intervento degli artificieri tanto anche il Carlino Ponte 2 Giugno trovate altre otto bombe aere durante la bonifica di quella scoperta due giorni fa sono emersi gli altri ordigni del peso di 100 kg ognuna sono tutte bombe italiane Fano invece qui siamo allo sport assist di destra ora rialziamo ci dice il nuovo allenatore della squadra Granata questa squadra ha fatto vedere buon calcio avrei preferito una settimana con meno partite ma ora tocca a noi intanto la notizia qua sotto sempre dal dettaglio basso sul resto del Carlino Valentino Rossi è ancora positivo Valencia è quasi un miraggio ultimo testo oggi altrimenti Yamaha va a Gerloff Rossi punta al miracolo in caso di tampone negativo sarebbe davvero dura ho già saltato due gare ma sono isolato in casa dice lui tutto il tempo ho seguito i consigli dei medici ma è una situazione molto triste e difficile dice Valentino Rossi e con questo chiudiamo la nostra rassegna stampa Occhio ai giornali torna domani come sempre alle 7 vi ringrazio per averci seguito vi do appuntamento questa sera alle 20.30 con il telegiornale Occhio alla Notizia arrivederci arrivederci a su a 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 Grazie a tutti